Si profilano altre scoperte nel corso degli scavi nella Valle dei Templi. Al margine del Teatro Greco è stato eretto un Tempio Romano. L'intervista alla direttore dell'ente Parco Valle dei Templi Giuseppe Parello, Irene Milisenda. I lavori in corso verso il Teatro Antico di Agraga si riservano ancora sorprese per archeologi, studiosi e appassionati. Nonostante il maltempo dei giorni scorsi, delle novità significative emergono nel saggio aperto a sud e nella parte a nord della Sommacavia. Infatti si sta scavando contemporaneamente in due porzioni, ma non si è arrivati ancora all'emersione definitiva del teatro. È stato però possibile intercettare le strutture del teatro in un'area prossima alla chiusura al limite meridionale. Scavando nell'area a sud di sempre più in profondità, gli archeologi hanno riportato alla luce un muro costruito in un momento successivo a quello della prima fase dell'edificio. A guardare la tecnica costruttiva è il fatto che ci sono all'interno della struttura diversi blocchi chiaramente di riuso. Adesso si sta concentrando l'attenzione nel saggio a nord della Sommacavia, dove sono sempre più evidenti i resti di un'altra costruzione. Potrebbe essere una fornace di tegole risalente probabilmente al periodo bizantino, quando il teatro era già stato spogliato. Grazie all'operazione di scavo delle ultime settimane è emerso un tesore infinito di materiali come maschere, pezzi di ceramica, oggetti realizzate con conchiglie e anche resti di animali. Si scava ancora a nord, nell'area settentrionale, quella dove è stata individuata una porzione della Sommacavia, e si scava qui a sud-est, a sud-ovest, nell'area dove chiaramente stiamo cercando di individuare la chiusura meridionale delle strutture del teatro. A nord, chiaramente sia a nord sia a sud, quello che emerge subito sotto lo strato del terreno agricolo sono comunque questi strati di occupazione tarda, che al momento stiamo cercando di individuare meglio a livello di cronologia, attraverso lo studio dei reperti ceramici da parte dei nostri archeologi, degli archeologi della nostra equip e anche a nord, come anche venerdì scorso appunto è stato messo in evidenza, sono venute fuori tracce di una porzione di un'area produttiva con una fornace a cielo aperto e frammenti di materiale non cotto e comunque scarti di produzione che testimoniano appunto questa attività produttiva. Sicuramente nonostante si avvicini l'inverno, continua il via vai dei visitatori, sempre più curiosi di visitare la Valle dei Templi, e adesso anche le ultime novità riguardanti gli scavi. Gli scavi procedono normalmente, nel senso che si fanno con la dovuta attenzione e con la dovuta tempistica. Siamo confortati dal fatto che tutte le ipotesi preventive man mano attraverso i saggi che andiamo eseguendo sono confermate e soprattutto del successo dell'iniziativa della visita a cantiere aperto. Anche questa è una scommessa, quella di cercare di invertire la tendenza, quindi destagionalizzare i flussi turistici. È un'impresa difficilissima, però ci si deve provare e alcuni risultati cominciano a venire fuori. Oltre agli scavi per riportare alla luce l'edificio teatrale dell'antica graga, si è concentrata l'attenzione anche per l'antico teatro romano che si trova alle spalle del Museo di San Nicola. Non si tratta di una nuova scoperta, perché la paternità del ritrovamento è da attribuire al professore Ernesto De Miro e risale agli anni 90. Quello che è in corso riguardano gli scavi che includono la ricostruzione della porzione del porticato sul retro del tempio. Stiamo lavorando nell'area del santuario del cosiddetto tempio romano e in particolare nel portico nord. Il portico nord, come tutta l'area del santuario, è stata interessata in età tardo-antica da un grosso accumulo di spazzatura. Successivamente all'abbandono, come spesso succedeva, succede anche oggi nelle aree grandi abbandonate, viene occupato, viene colmato da spazzatura. Noi lo stiamo liberando da questa spazzatura, quindi stiamo scavando stratigraficamente gli strati che hanno interessato, hanno obliterato in particolare il portico nord, perché nel portico nord c'è un grande crollo di cornici del portico e del muro che dava sulla strada che bordava a nord il santuario e noi vogliamo prelevare queste cornici per disegnarle, studiarle, e se è possibile vogliamo fare una piccola anastilosi su due intercolumni del portico, quindi li vogliamo risollevare. Grazie Grazie